6 candidati a sindaco, 17 liste, 485 candidati al Consiglio Comunale. Sono i numeri delle elezioni a sindaco del Comune di Verbagna. Gli elettori sono circa 26.600. Ma ecco i nomi dei candidati e delle liste che li sostengono in ordine di sorteggio per la pubblicazione sulla scheda elettorale. Primo Riccardo Brezza, 33 anni, consulente del lavoro, iscritto al Partito Democratico, assessore uscente a istruzione e cultura. Con le liste Europa Verde, Ambiente Verbagna, Movimento 5 Stelle, Cambia il Vento, Verbagna si prende cura, Una Verbagna a sinistra, Verbagna civica a volte, Partito Democratico. Secondo Patrick Rabaini, 56 anni, avvocato, assessore uscente a viabilità, polizia municipale e sport. Con le liste Marchionini per Rabaini, centro riformista e alleanza civica. Terzo Michael Immovilli, 45 anni, imprenditore, consigliere comunale uscente. Con le liste Immovilli, sindaco e libertà a Verbagna. Quarto Gian Domenico Albertella, 65 anni, architetto, già sindaco di Cannobbio, capogruppo uscente di Verbagna Futura. Lo sostengono le liste Verbagna Futura e le ali con Verbagna. Quinta Mirella Cristina, 57 anni, avvocato, ex deputata e segretaria provinciale di Forza Italia, sostenuta dal centro-destra con Forza Italia, Fratelli d'Italia e Lega. Sesto Paolo Caruso, 74 anni, professore e preside in pensione, già assessore provinciale e consigliere comunale dei Verdi. Si presenta con la lista Insieme Liberi.